Maranello 14 febbraio 2023, la Ferrari torna in pista con la SF23, la monoposta costruita per il campionato del mondo di Formula 1 2023. Al volante della rossa Charlie Clerk davanti a centinaia di tifosi accorsi da tutta Italia e da diverse parti d'Europa per vedere i primi giri della monoposta uscita dai box a mezzogiorno. Grazie a tutti.